Ragazzi, ben ritornati, oggi porto un ospite, lo so che oggi non è manco il primo aprile Però lo porto lo stesso, quindi Stiamo facendo video, stiamo facendo video Stiamo facendo video Allì, allora ti spiego, questo non è per niente una moda, ok? È completamente vanilla, puoi benissimo vedere che lì c'è già una struttura Il tema principale di questo update, più che altro update, questo snapshot È il fatto che ogni cosa è incentrata sull'oggetto più inutile di Minecraft, ovvero la patata volonosa Ma non mi sembra tanto inutile una patata Cosa trovi di utile in una patata venenosa? Che è una patata Ok, ci sta C'è un piedistallo Fatti, questo è un piedistallo che dà accesso ad una dimensione No, c'è stata una patata Una patata Una patata di dimensione Esatto, vieni con me, andiamo per... C'è un villaggio No, 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 guarda Non l'avevo mai visto questo Cos'è? Un armadillo È Mighty Dot Sleep l'armadillo Ma è un armadillo? Eh, sì Questo è vanillo Ma no, 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 vai Lo bruciamo Oh, mio Dio No, cosa fare? Ma stai stupido Robiamo Dobbiamo avere entrammi uno sacco di balle di fieno Ci equipaggiamo un po' prima Di balle di fieno Di balle di fieno Usiamo come armatura, arma E' certo, che fai Armatura ti vale di fieno Ti dai muni da H2 Potevano fare un update sullo smeraldo? Potevano non fare un update sulle patate velenose, Alan Sei pronto andare nella dimensione? No Ok Ali, vieni qua Siamo per andare nella dimensione Teoricamente dovrei semplicemente buttare una patata da sopra Per l'aspetto No, non te lo dico No Sì Oddio Entra, 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 entra Entra Non penso No, devi entrare Ecco Ecco Oddio Oh, Gesù Cristo Non si dico queste cose Scusami Altre robe Guarda Bombillo Un'altra zappa Cos'è? E' bellissimo Guarda il primo albero verde di Minecraft You're waiting for this Adi vorresti fare una casa con del ligno verde, se me sarebbe carino No C'è tutto patata Ti chiamo un potato stand questa qua Guarda Guarda Cosa sono fatti Queste non sono abbi Cos'è? Perché mi seguono? Perché è in fiore? Ah, giusto No, lo tengo perché il simbolo della nostra amicizia Allora Qui puoi cadere nel void, ma c'è poi morire Ma perché ci sono così tante streghe? Perché forse E' streghe da un nuovo Sono patatose Sono molto patatose No, è che la patata Scendi, 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 scendi Ma c'è ancora un zombie Che senso, scusa Ma ci sono mob così casuali In questa dimensione Non riesco capire C'è un villager fatto di patate Andiamo dal villager Guarda quanto sono male le porte Guarda i villager di patate Andi andi Dimmi Bene le porte No, senti Questo prendi? Prova Pietro, ma molto 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 dura Non troppo in certi Perché non troppo? Aspetta, forse troviamo del ferro Forse sai, il ferro non serve questa dimensione Guarda 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 lì Cazzo, dove? Il ferro Il marrone Ma è ferro Andy non c'è niente E quello cos'è? Andy non c'è niente Andy ci sono dei labirinti E c'è un altro Labirinti E c'è un altro Aspetta, c'è un villaggio con un Iron Golem C'è un villaggio dentro? Uscidiamo l'Iron Golem per il ferro E come scendiamo? Aspetta, faccio una barca Faccio una barca Labirinti No, aspetta, aspetta Scusa, a me mi posso rompere le foglie Che razza di labirinti è questo Guarda È das for fun È das for fun Ma io l'ho fatto veramente Eh brava Questi sono altri portali Possiamo tornare a casa Grazie a sto villaggio Andy ma qui Facciano qualcosa Devo uccidere Un Golem Ah no, va bene Oh, che ripeto Oh, man Sono più per di patata Cosa vuoi dire che fanno? Beh, ha fatto il mio sposo Le patate Stai per quanto questa dimensione Ha a che fare con le patate E non ho poi così tante patate Nell'inventare Beh, ne ho una che mi segue appresso Tutto questo video però Grazie Andy Prego Ok, ho fatto il piccone di ferro Adesso possiamo scavare un po' di roba in più Ma ma che ci sono Oh Cos'è sta roba? Passa a esplodere Scusa C'è qualcosa che non va con questo Ma sai Sai qual è il problema? Che tu hai un'arma Io no Guarda 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 Adesso ti troppo due oggetti Ecco La stessa cosa ho trovato Ma sono due cose diverse Ma questa è la plant Il fatto che io ho trovato questa E Una patata Guarda Due patate Ma non si collegano tra loro What the fuck È sneak potato questa Si chiama snack potato Che vuoi dire snack potato? Se la mangiare Non lo so Ah È niente Andy È stupido 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 Andy porco Dove se ho pensato Che stavo per morire Ho pensato Adesso tolgo l'acqua Oh No No Ali Ali Torna di Torna a stenzione Non cadere c'è uno scheletro dietro Ti veda Ti veda Non si è morto Hai finito il gioco Che vuoi dire Hai finito il gioco Oh no Ci sono i crediti Ci sono i crediti No Non ho parole Questa data è bellissima No Buttati 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 No Ho realizzato che tutto questo tempo Non serviva la Il piaccone di ferro Che cosa? Andy sono patate Dopotutto Infatti Serve la zappa Serve la zappa E' troppo tutto Cos'è questa cosa? E' acqua Troppo posionata E' acqua di patata No E' acqua Poisonata Questi 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 Che sono? Questo è coppa Il rani Ma è bellissima Dove sei uscito Allora Allora Non mi buttare E' Ho finito il gioco Che bello Minecraft Ma c'è la gravità Ma come c'è la gravità? Che cos'è questo? Che cos'è questo? Stico Ho scoperto che Questi I miei vecchi stivali Quelli che non si erano rotti Hanno fatto questo Non si sono rotti Poisono Cosa devo guardare? Guarda i miei ventali Guarda i miei ventali La mia mano Ma? Cos'è? Quanto pare se metti una patata nella grafite Tieni due occhi di patata Ti siamo andati a uccidere No, volevo farlo Il potato dragon Ma non è vero? Ecco Mi ha mentito Dobbiamo andare di quale? Mi ha mentito Cosa? Non mi stava la frosting Non è successo nulla No, ma devi mettere quelle velenose Ah, ok Ali, guarda Stiamo avanti Ok Aspetta Ma quello è l'enderman Cos'era quel suo, no? Ma quello è l'enderman Ali, perché? Che sta succedendo? Quello è un enderman Ma è bellissimo Il mio compare Allora, adesso tiro l'occhio e vediamo dove andiamo Ah, dietro Ma come dire? Basta mangiarti le robe velenose Allora, di qua ci dovrebbe essere Tiro un altro occhio Ma dove ti porta? Non lo so Tiro un altro occhio No Ahia Vai Ah, lo so Per domandare Aspetta Non possiamo sapere se è giorno o notte Perché c'è il giorno o notte Ma quelli sono diamanti Guarda, Ali Diamanti Io posso prendere diamanti? Sì Non col piccone Brava Brava Vedi se c'è altro Vedi se c'è altro No, peccato Ma tu che spuntano i zoom? Perché mi hai dato il diamante? Perché a me basta l'unico diamante che ho sempre vicino Hai risolto un video? Ci sta un oggetto chiamato Poisonous Potato Hammer E c'è un knockback 10 Sto scavando un po' di ferro Ma come sai? Mi vuoi? Sì Ragazzi con questa è una vanilla vanilla di Minecraft No mods Effettamente vanilla No mods è vero? Beh, in effetti no Mi piace comunque che hanno fatto questo pesce da aprile forse il più bello che hanno mai fatto Perché è proprio una moto di Minecraft Ma secondo me dovrebbero tipo Farò una cosa di me nel prossimo update No, non serve Va bene però cambia essere un po' gli assets Non patate come tema più spazio Ma per farò ci starebbe? Ali guarda che ho trovato Guarda che ho trovato È basalto Questa è roba strana È basalto No, queste deterite Allora questo cos'è? È basalto no? No, tipo Vabbè, quello Vedete non possiamo scavarla però con un piccolo Questo è Block of Black Potato Peels E questa quindi? Ali, queste non possiamo scavarla Eh, ma non possiamo scavarla Se solo avessimo piccoli di avanti Ali, perché non vai nell'acqua? Perché sono stupida Sono dei guardiani Oddio, mi sono attaccando Fanno dei suoni No, avvelenano Avvelenano? È veleno quello Cos'è la powerful? Ho sbloccato Ho trovato un oggetto figo Dobbiamo ammazzarlo Oddio, è vero Ma quelli sono tipo i guardiani del mare Ma faccio tipo a patata Danno weeder e veleno insieme E danno ambra Sono stanissimi Dobbiamo andare ancora avanti No, Eddie Devi provare a fare questa cosa Ti prego Dammi, dammelo, dammelo Provalo Parla Ehm Presto Face To acknowledge Wow, sedi On your feet There What do you do With this guy Vabbè, metto i sottotitoli Minecraft for Wix What do you do? No, vabbè È tutto un piano malefico E c'ho gli occhiali Va bene Signore, ascolti Vado a dormire anch'io Buonanotte Vado a dormire anch'io Vado a dormire anch'io Vado a dormire anch'io Vado a dormire anch'io Vado a dormire anch'io